Antonella Mosetti reagisce alle critiche e sbotta sui social Non c'è pace per Antonella Mosetti L'ex ragazza di nonna è Lara e continua ad essere bersagliata sui social. In queste ore la madre di Asia Nucetelli è stata sommersa da una valanga di critiche sul web per il suo aspetto fisico e per dei presunti ritocchini A scatenare gli haters della Mosetti è stata una foto pubblicata ieri accanto a Silvio Berlusconi L'ex protagonista del Grande Fratello ha ammesso di aver apprezzato l'incontro con l'imprenditore, lanciando una piccola frecciata ai suoi detrattori Commentando il post con Rossiconi Biamo Successivamente una serie di foto in costume pubblicate da Antonella Mosetti su Instagram, hanno sollevato una nuova valanga di critiche Tanto da portare alla reazione della showgirl che ha sottolineato, riferendosi agli haters. Antonella Mosetti, infastidita dai continui attacchi, ha parlato anche di probabili denunce su Instagram Le frecciate social sono proseguite per la madre di Asia Nucetelli che poche ore fa, ha deciso di pubblicare un nuovo post con un altro messaggio tagliente rivolto ai followers poco carini Nei suoi confronti, scrivendo? Antonella Mosetti stanca delle critiche reagisce su Instagram Stanca delle critiche, Antonella Mosetti ha reagito con forza sui social La showgirl ha affilato gli artigli sottolineando di non essere scalfita dalle critiche, al contrario le cattiverie gratuite ricevute sarebbero in realtà alla sua forza In questi giorni anche Andrea Damante ha lanciato un importante messaggio schierandosi contro il kiberbullismo L'extronista e compagno di Antonella Mosetti a grande fratello VIP, spesso vittima di critiche sul web, ha sottolineato che i social da grande mezzo di comunicazione e condivisione possono diventare un'arma a doppio taglio Damante ha ribadito l'importanza di denunciare il bullismo, e di continuare a parlare del fenomeno per debellarlo Come spesso accade infatti i social continuano ad essere il mezzo per offese gratuite e proprio i personaggi dello spettacolo cadono spesso nella rete delle critiche a causa della loro popolarità e sovraesposizione In questi giorni Antonella Mosetti si trova in Sardegna. L'incontro con Silvio Berlusconi è stato precisamente al country club di Porto Rotondo La madre di Asia Nuccetelli si sta godendo le vacanze tra sole, mare e divertimento, postando foto in spiaggia e video delle sue serate, in barba alle critiche